Una lite per contrasti tra vicini è degenerata quando uno dei due, nell'aggredire colui che vedeva come un nemico, gli ha morso il pollice fino a staccarglielo. Vicenda che ha avuto come scenario il piccolo paese agrigentino di Racalmuto. In base alla ricostruzione dei carabinieri a compiere il violento gesto è stato un pensionato ultra sessantenne nei confronti del vicino di casa, un giovane disoccupato di poco più di 30 anni. Ed è stato proprio quest'ultimo dopo essersi recato al pronto soccorso per farsi curare con i medici che hanno indicato una prognosi di 30 giorni a raccontare l'accaduto ai carabinieri quando si è recato in caserma. In base alle prime indagini i militari dell'arma hanno ricostruito la presenza di dissidi tra i due per questioni di vicinato, poi sfoggiati nella violente alite in cui il più giovane dei contendenti è rimasto ferito. Adesso per il pensionato è scattata la denuncia a piede libero alla procura di agrigento che sta procedendo per il reato di lesioni.